Ciao, sono Antonio Musumeci, sono un truccatore, un parrucchiere, in questo caso oggi faccio il trucco per D&D, il mood della sfilata è bravi ragazzi, come hai visto c'è una chiesa con le panche, le bibbie, quindi praticamente il look è bravo ragazzo che va in chiesa, tutto casa e chiesa e basta. Ok, I guess we should start with saying that this show will be ten years of D Squared Man, kind of turning the page, going forward, we've come a long way, we've made a lot of progress, and I think it's time for us to sit back and say thank you, and this is a dedication to God, for giving us the sensibility to do a job that we do, and just somehow been always protecting us in our career, and getting us to be where we are, I mean we're here, it would be arrogant to think that we're here today in front of you guys with no help from anybody. God, I mean, I know some soldiers in here, they wanna take care of me, I know some soldiers in here, they wanna spend that on me, what are you? Niente che sia lucido, almeno per D Squared, tante sfilate hanno usato il lucido, il gel, invece per questo è proprio opaco, il capello deve essere vero, com'è loro durante l'arco della loro giornata e non di certo per una sfilata diverso, quindi niente lucido, è molto vero. Hi, my name is Daniel Pimentel, I'm from California and we're at D Squared. My name is Nicholas Aaron Lemons, I'm thanking God for being here today on this earth, and I'm happy to be here, it's a fun time here in Milan. Enjoy the show, Fashion TV. Ciao, bye.